Si è conclusa questa mattina alle 6 l'operazione di soccorso della Guardia Costiera di Roccella Ionica coordinata dal comandante il tenente di Vascello Daniele Ticconi che ha portato in salvo 121 migranti di varia nazionalità che viaggiavano da circa 4 giorni a bordo di un piccolo rimorchiatore portuale con il motore innestato da avaria a circa 30 miglia dalla costa. Si tratta di 121 persone tra cui 24 bambini anche in tenera età provenienti da Iraq, Afghanistan, Siria, Pakistan e Bangladesh. Dopo lo sbarco dell'unità della Guardia Costiera, la CP 326 i migranti sono stati identificati a cura del personale della Polizia di Stato del Commissariato di Siderno e successivamente rifocillati presso la tenso struttura gesia dai volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile. Quello di stamattina è il 64esimo arrivo di migranti nella struttura portuale roccellese nell'anno 2022 e secondo le previsioni da qui a Natale il numero è destinato ad aumentare esponenzialmente.